60 minuti intensi con due squadre che si sono affrontate a viso aperto e senza esclusione di colpi, ma soprattutto 60 minuti di fratellanza, unità, amicizia, rispetto e gioia di stare insieme. Poco comporta se il tabellino finale della partita svoltasi al campo San Carlo di Voltri abbia segnato un netto 2 a 8 in favore dei ragazzi ospiti della Tendopoli gestita dalla croce bianca genovese. Il calcio più importante è stato quello alle discriminazioni, al razzismo, alla disuguaglianza e alla violenza. Lo sport come linguaggio universale per unire e superare qualsiasi barriera, promuovendo i valori di accessibilità, fair play, rappresentatività, inclusione, realtà e uguaglianza. È stato questo lo scopo della gara che ha visto protagoniste le due formazioni da 11 calciatori sul terreno di gioco della Voltrese Voltur, associazione sportiva che ha messo a disposizione gratuitamente l'impianto. Il calcio di inizio è stato battuto dal presidente gialloblu Pasquale Ottonello insieme a Walter Caruba, presidente della Croce Bianca genovese. La formazione della pubblica assistenza, allenata da Alessandro Malatesta, era capitanata dal consigliere Giorgio Migliaccio, mentre quella dei migranti di mister Marco Marcenaro era capitanata dal mediatore culturale Yaya Moussa. Al termine della gara, un terzo tempo conviviale, nel quale si sono svolte le premiazioni, naturalmente a pari merito per entrambe le formazioni, indipendentemente dal risultato sul campo. E' un rinfresco per tutti i partecipanti. La partita è stata diretta da Federico Orsi, coordinatore team comunicazione della Croce Bianca genovese, nonché ex arbitro della federazione in eccellenza. Insomma, un momento di grande solidarietà, reso ancora più rilevante da un periodo storico molto delicato come quello attuale, dilaniato da guerre, conflitti e divisioni.